Il prossimo abitoncio, l'auditorium è meglio farlo in fiera che non qui in piazza Revitani? Oggi ribadiamo il concetto, ogni giorno come vedete facciamo delle proposte operative, quindi non solamente sicurezza, abbiamo parlato della stazione, di riportare la viabilità davanti alla stazione, abbiamo parlato dell'arco di Giano, abbiamo parlato della stanga, abbiamo parlato di rotatorie, di piste ciclabili. Oggi parliamo invece di come sia importante portare l'auditorium non in piazza Revitani, non qui che non ci sono assolutamente parcheggi, non esiste in nessuna parte d'Europa un auditorium dove non ci sono parcheggi, dove non è assolutamente accessibile. Noi lo porteremo in fiera, lo porteremo insieme al centro congressi, lo porteremo in un posto dove c'è già un'attività e dove si possono attivare quelle sinergie, quelle economie di scala che ci stanno insieme al mondo fieristico, insieme al centro congressuale è possibile farlo, è possibile attrezzare una sala anche per la musica e questa è la nostra proposta, non certamente questa ottusa di voler utilizzare un fabbricato esistente, trasformare in auditorium che poi verrà utilizzato solamente poche volte all'anno. La cultura, il turismo devono essere sinergici, devono lavorare assieme, insieme anche al mondo fieristico e congressuale.